Siamo con Matthew Lee nell'anfiteatro del Parco Miralfiore dove Matthew Lee si esibirà il prossimo sabato 3 luglio in occasione della rassegna Interludio. La musica di Matthew Lee è da tempo andata oltre i confine, però torna nella sua città dove tutto è cominciato e immagino è sempre una sensazione particolare. Sono felicissimo, a parte il fatto che ricominciamo a suonare da qualche giorno, noi siamo in tour da qualche giorno e non ci fermeremo più penso. Tornare a Pesaro è ovviamente una gioia perché sai che puoi suonare dappertutto, puoi fare New York, Parigi, andare dove vuoi a Londra, ma poi quando vieni a Pesaro tremano sempre un po' di più le gambe, c'è sempre un po' più l'emozione perché è dove sono nato, casa mia, quindi è sempre un piacere. Casa tua però mancava ancora il Parco Miralfiore, una location particolare all'aperto che anche la stessa città sta riscoprendo. Guarda questa è una location bellissima, infatti anni fa mi dicevo chissà se un giorno sono ero qua perché vedevo questa location che però non veniva proprio sfruttata al massimo, invece adesso con questa manifestazione credo che partirà un nuovo ciclo di concerti, quindi insomma sono felice anche di essere qui, guarda che bel posto, bellissimo. Ecco, chi si siederà alle tue spalle, che proposta vedrà del tuo repertorio? Beh, vedrà sicuramente il rock'n'roll perché quello non può mancare, le mie origini. Poi ovviamente l'ultimo disco, Rock'n'Love, che io avevo fatto appena in tempo a presentare al Teatro Rossini di Pesaro l'ultima volta nel 2020, poi dopo ovviamente si è interrotto tutto perché era appena uscito il disco ma si è interrotta la promozione, si è interrotto tutto per via del Covid. E quindi ricominciamo proprio adesso a riproporre le canzoni dell'album, ci sono tante novità, la mia band tra l'altro è allargata, quindi oltre alle persone che avete visto già al Teatro Rossini alla fine del 2020 ci sono nuovi musicisti, abbiamo aggiunto oltre ai miei classici abbiamo aggiunto Mecco Guidi all'Hemond, un grandissimo tastierista e mondista che è con Cremonini anche, e uno dei chitarristi di Benato che è Gennaro Porcelli, un grandissimo bluesman e sarà proprio qui sul palco insieme a me. Ogni anno un tour diverso, però il primo tour post pandemia forse ha un sapore particolare, quello di apprezzare ancora di più quella che doveva essere la normalità come esibirsi sul palco. Io non ce la facevo più, questa è la verità, quindi tornare a suonare dal vivo e ricominciare a respirare sul serio. Noi musicisti siamo stati colpiti in particolar modo perché i concerti, i spettacoli è l'ultima cosa che riparte, meno male che stiamo ripartenendo. Quindi, però come scrivevo sui miei post di Facebook, veramente credo che non mi fermerò mai più nella vita, quindi questo è stato veramente l'ultimo periodo possibile di fermata, quindi insomma, ci suonerà sempre, basta, finito.